Una buona politica è quanto mai necessaria per dare una strategia al futuro di questo paese e riavvicinare sempre più i cittadini e i palazzi istituzionali. Alla luce degli scandali che stanno denunciando da nord a sud la cattiva gestione della cosa pubblica appare quanto mai urgente il rinnovamento della classe dirigente del nostro paese. Le trasformazioni impetuose di questi tre decenni rispetto al sistema partitico e alle diverse componenti ci ha fatto smarrire il ruolo fondamentale che i partiti hanno nel buon funzionamento della democrazia alla fin fine su una buona politica. In questo contesto possono svolgere un ruolo strategico i cattolici con i loro valori, la loro storia, la capacità di aggregazione e lo sguardo attento al futuro. Si tratta non solamente di fare un'analisi culturale ma di proporre delle linee di azione che siano persuasive, elaborate dal mondo cattolico che ne ha la forza e la capacità e siano proposte più largamente a tutti. Un convegno svoltosi a Roma alla vigilia di Todi Duo e il meeting delle associazioni cattoliche alla sua seconda edizione. Sono settimane determinanti. Il movimento cattolico deve fare delle scelte definitive se vuole essere incisivo nei prossimi cinque anni. Noi pensiamo che il mondo, che questo convegno, oltre che un approfondimento di temi sia anche una spinta rispetto a alcune scelte che sono politiche ma anche organizzative e anche a Todi su questo saremo molto chiari.